Sono venuta a salutare i ragazzi di Mediterranea per dare il mio sostegno incondizionato a quest'operazione che era più che mai necessaria. Mediterranea serve prima di tutto per andare a salvare vite umane laddove non c'è più nessuno che lo fa. Gli ONG sono state cacciate via e non solo perché salvavano persone ma perché erano testimoni di una delle più grandi tragedie del nostro tempo. Secondo, Mediterranea serviva più che mai oggi per lanciare una controoffensiva morale perché decidere di lasciare morire le persone in mare è una delle cose più orribili di questo nostro tempo. Noi vogliamo che non solo Mediterranea ma tutti quelli che la sostengono facciano sentire la loro voce, non smettano di lottare e dimostrino di avere coraggio. Beh forse non è un bel momento quello in cui per dimostrare di essere umani bisogna anche essere coraggiosi però se bisogna farlo noi siamo qui e quindi prendetevela con me e con tutti quelli che sosterremo Mediterranea. Siamo tantissimi.